L'infermiera uccisa dalla figlia, i carabinieri fanno luce sul giallo di melito porto salvo. La figlia 17enne avrebbe sparato alla madre perché privata di cellulare e pc a causa del cattivo rendimento scolastico. Tangentianas, confessioni e difese, nuovi particolari dall'inchiesta della Procura di Roma. L'avvocato Battaglia ammette il suo coinvolgimento in una vicenda tangentizia e torna libero. Emilia, la nostra collega parte civile, si chiama Sabrina, è una giornalista e lavora per il resto del Carlino. È stata tra i pochi privati a costituirsi come parte l'ESA nel maxiprocesso all'Andrangheta, incardinato a Bologna. L'abbiamo intervistata. La Calabria di Genia, Carogna, in una regione alle prese con gravissime emergenze, il dibattito politico e la giustizia finiscono con l'occuparsi della singola reccherel che ha interessato il sindaco di Locri, l'assessore Roccisano e Sebi Romeo e adesso interviene anche il governatore. Recupero e coppa i risultati di Serie D, il rende corsaro sul terreno dell'Agropoli, ecco come cambia la classifica del girone I, in campo anche le altre calabresi impegnate in Coppa Italia. Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione, lo avete sentito nei titoli in apertura della nostra scaletta alla cronaca, con l'episodio che riguarda la ragazza che avrebbe ucciso sparandole alla testa la madre perché le aveva vietato l'uso del cellulare e del computer. I carabinieri hanno fatto luce sul giallo di Melito Portosalvo e sulla morte dell'infermiera Patrizia Crivellaro. In arresto la figlia minorenne, appena 17enne, ce ne parla Francesco Creazzo. Avrebbe sparato alla testa sua madre perché le aveva sequestrato il cellulare e questa la terribile accusa che grava su una 17enne di Melito Portosalvo che il 25 maggio scorso avrebbe fatto fuoco sulla propria madre. Inizialmente si era pensato ad un suicidio, ma la dinamica del fatto non ha lasciato convinti i carabinieri della cittadina ionica. Subito dopo il fatto di sangue, la ragazza, unica presente in casa oltre alla madre, aveva allertato lo zio materno. Qualcuno ha sparato alla mamma. Incongruenze nel racconto e contraddizioni hanno fatto insospettire i militari che l'avevano interrogata, che hanno così deciso di affidarsi all'aiuto del RIS di Messina. Tre impronte digitali parziali sul calcio della pistola, un esame autoptico che esclude il suicidio, l'esito positivo dello STAB, sembrano lasciare poco spazio alla linea difensiva della giovane che adesso ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare ed è stata portata in un istituto penitenziario minorile fuori dalla Calabria, così come disposto dalla procura minorile di Reggio. Alla base del gesto ci sarebbero normali litigi familiari. A causa del cattivo andamento scolastico della ragazza, la madre le aveva vietato l'uso di cellulare e social network, di cui la giovane avrebbe fatto un uso intensivo. Andiamo avanti e continuiamo a seguire le vicende inerenti l'inchiesta della Procura di Roma sulle tangenti ANAS. Confessa il suo coinvolgimento in una vicenda tangentizia e torna in libertà l'avvocato Eugenio Battaglia mentre si concludono tutti gli interrogatori di garanzia. Gabriella Passariello. Non esistono le esigenze cautelari. Il GIP Giulia Proto ha rimesso in libertà Eugenio Battaglia, noto avvocato del foro di Catanzaro, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta romana sul vorticoso giro di Mazzetti all'ANAS. La revoca della misura è stata disposta dopo l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale Battaglia ha ammesso di aver consegnato il 12 maggio scorso 25.000 euro nelle mani del funzionario ANAS Giovanni Parlato per conto dei fratelli Silvagni in relazione all'esproprio di un terreno sito a Falerna. Ha invece rispinto l'accusa di corruzione concetto bosco agli arresti domiciliari titolare della società Tecni Spa, società appaltatrice dei nuovi ospedali di Palmi e della Sibaritide. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, secondo quanto si è preso, ha precisato di non essere un corruttore, bensì un concusso. In sostanza, Bosco ha rivendicato di essere stato costretto a pagare per lo sblocco di un pagamento. Lo stesso imprenditore avrebbe inoltre escluso il coinvolgimento dell'ex sottosegretario all'infrastruttura, Luigi Meduri, nei presunti illeciti relativi alla variante di Marbegno in Bartellina. E intanto si sono conclusi gli interrogatori di garanzia per i dieci destinatari dell'ordinanza di misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta capitolina nome in codice da Manera. Per alcuni di loro si attendono le decisioni del giudice e delle indagini preliminari. Nella giornata di ieri abbiamo documentato un evento di portata storica nella lotta all'Andrangheta, ovvero l'apertura del maxiprocesso Emilia a Bologna, 219 imputati e ben 30 parti civili. Tra queste però le principali vittime, ovvero i privati, sono solo quattro. Tra le parti civili private una nostra collega giornalista. L'abbiamo ascoltata. Sono state una trentina le richieste di costituzione di parte civile avanzate nell'udienza preliminare di Emilia. A chiedere i danni sono principalmente enti o associazioni mentre sono solo quattro le vittime del clan presenti in aula. Quattro su 77 che i PM avevano indicato come offesi. Un dato che la dice lunga sulla pressione e il timore che i grandi aracri incutono sul territorio. La giornalista del resto del Carlino di Reggio Emilia, Sabrina Pignedoli è una di quei quattro privati cittadini che ieri in aula si sono costituiti parte civile. Credo che sia un atto doveroso. che segue logicamente la denuncia che ho fatto soprattutto alla luce di quello che poi è emerso dalle carte e che mi ha fatto capire il contesto in cui è nata questa minaccia nei miei confronti. Le intimidazioni a Sabrina sono arrivate dall'agente di polizia Domenico Mesiano chiamato l'infedele ispettore e ora accusato di associazione mafiosa. Ho denunciato e le forze dell'ordine mi sono state vicino, i magistrati mi sono stati vicino e quindi posso dire di aver continuato a fare il mio lavoro. E ci spostiamo a Gioia Tauro per parlare di lavoro. Ancora attenzioni al porto dove i lavoratori incrociano le braccia. Il motivo viene spiegato in questo servizio di Cristina Iannuzzi. E' paralisi totale al porto di Gioia Tauro per lo sciopero dei lavoratori dello Scalo Calabrese che hanno deciso di incrociare le braccia con un giorno d'anticipo rispetto alla data proclamata dalle organizzazioni sindacali. La protesta è scattata questa notte a partire dal primo turno dopo che tra gli operai si è sparsa la voce delle nuove giornate di cassa integrazione. Inutile il tentativo messo in atto da alcuni dirigenti sindacali di convincere i portuali a ritornare al lavoro. L'adesione allo stop delle attività di movimentazione dei container nei piazzali è stata totale. Il 100% nel primo turno dal lunedì notte alle 7 di mattina e nel secondo turno dalle 7 alle 13. Uno sciopero che andrà avanti fino a tutta la giornata di domani e che servirà soprattutto a richiamare l'attenzione delle autorità preposte sullo scalo portuale che rischia di morire. Dal sul il duro attacco al presidente della regione Calabria. Nulla si muove attorno al porto di Gioia Tauro, denuncia il sindacato, mentre i volumi di contenitori calano vertiginosamente e di conseguenza aumentano le giornate di cassa integrazione. Per il sindacato la regione deve dare seguito all'impegno di istituire al porto di Gioia una zona economica speciale, unica via d'uscita per rilanciare lo scalo portuale calabrese e garantire le centinaia di posti di lavoro a rischio. E torniamo ora ad occuparci della statale 106, già ribattezzata la strada della morte. Sono dieci i senatori che incalzano il governo a dare risposte a ciò mentre nella nostra regione si continua a morire. Mentre la Camera ha dato nulla osta all'introduzione dell'omicidio stradale e il testo di legge torno al Senato per il voto finale, in Calabria, sulla 106 ribattezzata la strada della morte, si continua a morire. Il senatore Antonio Gentile, insieme ad altri nove colleghi, si è fatto nuovamente promotore di un documento indirizzato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere conto dei clamorosi ritardi nell'avvio dell'opera di ammodernamento del terzo macrolotto della statale 106 tra Sibari e Rosetto. Lavori di ampliamento e di messa in sicurezza quanto mai necessari se si considera tra l'altro che è l'unica arteria della costa ionica calabrese capace di collegare la rete autostradale tirrenica a quella adriatica. Un'opera che se realizzata renderebbe più sicura quella strada maledetta detta del Presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla strada statale 106, Fabio Pugliese. Ricordando la lunga scie di sangue, le 20 vittime che su quell'asfalto hanno perso la vita dal primo gennaio del 2015 fino ad oggi, una vita spezzata ogni 14 giorni. L'ultima è Giampiero Scalercio, militare servitore dello Stato, carabiniere di 55 anni in forza alla stazione di Ciron Marina. E voltiamo pagina perché la Calabria potrebbe dotarsi presto di una legge per contrastare il gioco d'azzardo. È solo una tappa nella difficile lotta contro la ludopatia. Sentiamo il servizio di Tiziana Bagnato. Istituzione di un osservatorio regionale, percorsi di riabilitazione per i giocatori patologici e poi stanziamento di fondi per la loro cura ma anche per l'assistenza delle famiglie. Sono questi alcuni dei punti focali della proposta di legge sul gioco d'azzardo patologico depositata da Luciano Luciani del movimento Slot Mob della provincia di Cosenza e accolta dai consiglieri regionali Franco Sergio d'Orlandino Greco. Una legge che andrebbe ad incanalarsi in un tessuto che è sempre più vittima del gioco. È di 32 miliardi di euro, infatti, il bacino di denaro smosso nel 2015 dall'azzardo. Le vittime di ludopatia sono il 2,2% del totale della popolazione e sono per lo più uomini ma con una buona fetta di donne. Il tutto in un territorio in cui, secondo le indagini del movimento, sono pochi i comuni dotati di regolamenti adatti ad arginare il proliferare indiscriminato di sale scommesse e slot machine, così come la Calabria non ha ancora nessuno strumento legislativo in merito, nonostante i tentativi degli scorsi anni. La proposta di legge prevede ora che venga data ai comuni la possibilità di munirsi autonomamente di regolamenti per ad esempio conferire premialità per chi decide di eliminare le slot machine dal proprio esercizio commerciale o dettare le distanze minime dei locali con macchinette dei centri di aggregazione. Il dibattito politico calabrese continua ad essere scarno di contenuti sintomatico di questo stato di cose il riesplodere di una polemica che sembrava assopita e sulla quale adesso si trova a dover intervenire il presidente della regione. Ascoltiamo. È un tipo sanguigno Giovanni Calabrese, il sindaco di Locri, sovente anticonformista. Si ricorderà la sua contrarietà ai cartelli antindrangheta che da Trezzano sul Naviglio allo Stretto sono stati promossi dal Lanci. Ancora più rumore però fece la sua uscita all'indirizzo dell'assessore regionale Federica Roccisano alla manifestazione in difesa dell'ospedale di Locri. Sarei su il sindaco proprio prende il microfono in mano e anziché cosa che aspettavamo tutti calmare le folle e dire fatela parlare e aizza con cori da stadio. Un caso chiuso quando il primo cittadino in occasione del decennale dell'omicidio di Franco Fortunio si scusò con la stessa Roccisano. Scuse accettate e animi sedati. Almeno fino alla sortita del capogruppo DEM in consiglio regionale Sebi Romeo che per questa vicenda ha associato la figura di Calabrese a quella di Genia Carogna ovvero il capoltra del Napoli divenuto l'uomo metafora del calcio violento italiano. Giusto qualche giorno per non reagire come di consueto distinto ed ecco che Calabrese querela Sebi Romeo. Poi il silenzio rotto dall'intervento in una nota del governatore in persona. Riteneva archiviata quella negativa vicenda dice Oliverio e invece si è di nuovo scelta la strada della riapertura di contrapposizione attraverso il ricorso alla querela. Difende Romeo il governatore ed esprime dispiacere. Nella Calabria delle emergenze non solo il dibattito politico istituzionale ma anche la giustizia ora deve occuparsi anche di questo. E apriamo la pagina dello sport con il calcio. Ieri il Rende ha recuperato la gara di Serie e di contro l'Agropoli superlativa la prova dei biancorossi che in trasferta rifilano un poker alla squadra campana. Rende finalmente Corsaro in trasferta. La truppa biancorossa mette in cassaforte i primi tre punti lontano da Lorenzon. Lo fa sul campo neutro e a porte chiuse di Castellabate contro l'Agropoli nel recupero della sesta giornata di campionato. I trocini boys partono subito con il piede sull'acceleratore e alla mezz'ora sono già avanti di due reti. Al ventesimo è Azzinaro a spezzare l'equilibri. Dieci minuti dopo il doppio vantaggio lo firma Papa. L'Agropoli resta a guardare ma il quarantesimo riapre a sorpresa il match con Salvatore Gallo. E' solo un fuoco di paglia perché nel secondo tempo il Rende riprende il bandolo della matassa e chiude la pratica. All'ottavo Chiariello stende in aria Ruffo, cartellino rosso e penalty Sacrosanto che Moscero trasforna nell'1-3. Primo gol a stagionale per l'ex capitano del Cosenza. La gara si incattivisce, l'arbitro toglie altri tre cartellini rossi, due per l'Agropoli ed uno per il Rende. Va fuori dal terreno di gioco anzitempo anche Mister Trocini, poi Melis ferma Moscero ancora fallosamente in aria e dagli 11 metri Crucitti cala il poker. Un successo importante per la formazione silana al terzo risultato utile di fila in dieci giorni. E per effetto della vittoria ottenuta dal Rende sull'Agropoli ecco come è cambiata la classifica del girone I di serie D. Cavese 20, Frattese 18, Siracusa Palmese 17, Vibonese 16, Sarnese e Due Torri seguite anche da Roccella 15, Leonfortese Rende 14, Aversa Normanna, Agropoli, Gragnano e Marsala 12, Noto 11, Reggio Calabria 10, Scordia e Gelbison 8, Vigor Lamezia ancora 0. E in campo ieri sono scese anche delle altre squadre calabresi ma per il turno di Coppa Italia. Partita da fuochi d'artificio, quella giocata ieri tra Palmese e Vibonese valevole per la Coppa Italia di serie D. 3 a 3 al termine dei tempi regolamentari, 7 a 5 per i neroverdi padroni di casa che passano il turno dopo la lotteria dei calci di rigore. Una partita scoppiettante nonostante i due allenatori, Salerno e Di Maria, per comprensibili motivi abbiano fatto ampio ricorso alle seconde linee e a tanti under. Nei primi 45 minuti di gioco, supremazia della Palmese che chiude la frazione in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete sul rigore di Angotti. Gli ospiti rosso-blu escono fuori alla distanza e ribaltano il punteggio in 24 minuti grazie ai gol di Garat e Paveglianiti. Poi la zona Cesarini che non ti aspetti. Prima il pareggio della Palmese che fa 2 a 2 con Saturno, poi il nuovo vantaggio al 41esimo per la Vibonese con Cosenza. Infine, quando già erano scaduti i minuti di recupero, la Palmese trova il 3 a 3 ancora con Saturno. Dal dischetto poi decisivi l'errore di Ruscio per la Vibonese e il gol di Misale per il 7 a 5 finale. Rigori fatali anche per il Reggio Calabria, sconfitto per 5 a 4 dallo Scordia. In questo caso però molte meno emozioni con i tempi regolamentari che si sono chiusi sullo 0 a 0. Ai rigori decisivo l'errore di Ruscio che si fa respingere il tiro dal portiere, mentre subito dopo i padroni di casa passano il turno grazie alla trasformazione di Mazzamuto. Ed è tutto, l'appuntamento con le notizie termina qui e ritorna stasera alle 20.15. Vi lascio con un breve riepilogo delle principali notizie di questa edizione. Avrebbe sparato alla testa sua madre perché le aveva sequestrato il cellulare. E' questa la terribile accusa che grava su una 17enne di melito portosalvo che il 25 maggio scorso avrebbe fatto fuoco sulla propria madre. Inizialmente si era pensato... Non esistono le esigenze cautelari. Il GIP Giulia Proto ha rimesso in libertà Eugenio Battaglia, noto avvocato del foro di Catanzaro, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta romana sul vortico sul giro di Mazzetti all'ANAS. La revoca della misura è stata disposta dopo l'interrogatorio di... Sono state una trentina le richieste di costituzione di parte civile avanzate nell'udienza preliminare di Emilia. A chiedere i danni sono principalmente enti o associazioni, mentre sono solo quattro le vittime del clan presenti in aula. Quattro su 77 che... L'ansidotale al porto di Gioia Tauro per lo sciopero dei lavoratori dello scalo calabrese che hanno deciso di incrociare le braccia con un giorno d'anticipo rispetto alla data proclamata dalle organizzazioni sindacali. La protesta è scattata questa notte, a partire dal primo turno, dopo che tra gli operai si sparsa la voce... Istituzione di un osservatorio regionale, percorsi di riabilitazione per i giocatori patologici e poi stanziamento di fondi per la loro cura, ma anche per l'assistenza delle famiglie. Sono questi alcuni dei punti focali della proposta di legge sul gioco d'azzardo patologico depositata da Luciano Luciani del Movimento... Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.